Se entro domani non si troverà l'accordo sulla finanziaria Lars, si procederà con l'approvazione dell'esercizio provvisorio e quanto stabilito dalla conferenza dei capi gruppo dell'Assemblea regionale siciliana. Il tentativo di arrivare ad un compromesso condiviso da tutti si farà in commissione bilancio. Il testo base che sarà presentato dovrebbe essere quello snello che il governo ha depositato prima di Natale, con qualche aggiunta che dovrebbe riguardare i fondi da destinare alle ex province, agli asu, agli ex portellisti e ai disabili e ai forestali. Il presidente della commissione bilancio, Vincenzo Vinciulla, ha sottolineato come l'assenza in commissione di parecchi dirigenti generali abbia reso più difficile l'approvazione della finanziaria, insieme alla volontà dei deputati, trattandosi dell'ultima finanziaria della legislatura, di voler inserire norme a favore dei propri territori, nonostante ciò sia vietato dall'articolo 118 che impedisce di inserire in bilancio norme ordinamentali. Critici i grillini, parlare di vergogna, afferma nei deputati 5 Stelle, Cancelleri e Tancredi, è forse perfino riduttivo. Crocetta va in giro a raccontare successi in serie a una Sicilia opulenta che non esiste, mentre la realtà è che il suo PD non riesce nemmeno a fare squadra per portare a casa una finanziaria che la Sicilia attende con ansia. La commissione bilancio avrebbe già trovato il modo di trovare le risorse necessarie per sportellisti, liberi consorsi, ex asu e forestali, attingendo i capitoli su spese facoltative. Ora però servirà il via libera da parte del governo. Se la situazione di impasse non dovesse sbloccarsi, si procederà dunque, come accennato, con la proroga dell'esercizio provvisorio, che aumenterebbe le incertezze per l'erogazione dei fondi regionali per tutti i comuni siciliani, compresi quelli blei.